Salve gente e benvenuti nel magnifico mondo del calcio giocato, soprattutto calcio professionistico che porta i tifosi a cambiare opinione veramente da un momento all'altro diciamo c'è questa schizofrenia dovuta magari a un risultato, a una prestazione, non lo so è comunque evidente e soprattutto per me è stato evidente ieri sera quando ho fatto l'una passata con molti di voi non solo raziali ma anche romanisti, juventini, napoletani che mi hanno dato una visione di come una partita, un risultato e una prestazione possano creare anche dei piccoli terremoti in altre società lontane dall'epicentro che era la partita di ieri sera ne parliamo comunque in questo video, tu che lo stai vedendo questo video come sempre invito te e gli altri che andranno a vedere questo video a iscrivervi al canale se non l'avete fatto è un canale che non fa 2000 video al giorno quindi andate tranquilli, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina ovviamente per rimanere aggiornati sui contenuti di questo canale quindi con i nuovi video un like, lascialo subito se ti va o comunque guardate il video e magari me lo lasci all'ultimo cerca di ricordartelo per rilasciare questo like mentre Instagram nostrafamo76 per quanto riguarda i commenti insomma se vuoi commentare anche tu e vuoi dire qualcosa mi trovi lì, rispondo sempre a tutti magari non in modo immediato ma sappi che rispondo nei commenti ragazzi come sempre il link per andare a vedere le magliette vi ringrazio già i tanti o i pochi adesso non so esattamente se sono pochi che hanno comprato tante magliette o se sono tanti che ne hanno comprata una o due comunque diciamo la risposta è stata già molto positiva spero quanto prima che mi arrivino a me le magliette da mostrarvi e ne riparleremo meglio comunque a fine video lascio anche un piccolo video ulteriore una specie di pubblicità per capire di cosa stiamo parlando andate a dare un'occhiata nei commenti allora ragazzi ieri divertentissime le discussioni con voi ripeto l'una passata ho fatto perché gli amici laziali entusiasti non su tutto abbiamo avuto lo stesso punto di vista c'è chi dice che Marusic ha giocato meglio di Isai secondo me è l'inverso sono cose personali però per me Isai è stato è vero che il cliente più difficile ce l'aveva Marusic ma proprio per questo doveva metterci più attenzione invece si è fatto Fortuna si è fatto saltare spesso Isai invece dall'altra parte ha mantenuto bene la posizione buoni anticipi mi è piaciuto molto Isai invece dall'altra parte quindi per me è meglio Isai di Marusic altra discussione è stata su vabbè che Cataldi io ho detto che Cataldi secondo me ieri sera non c'era proprio era proprio dietro dietro secondo voi invece ha fatto una discreta partita su Felipe Anders eravamo abbastanza d'accordo dal momento in cui dal gol in poi prima non so dove voi avete visto già da prima un buon Felipe Anders ma Felipe Anders non è che ha fatto male prima non ha fatto nulla come non hanno fatto nulla gli altri prima del gol ovviamente tutti d'accordo con Luis Alberto il migliore anche su Immobile con un po' di discussioni perché per me Immobile onestamente non ha i 90 minuti non sta rendendo come rendeva ma questo già da un bel po' che non rende come il Ciro Immobile ovviamente di qualche anno fa per me è già un annetto che Ciro ha difficoltà ciò non toglie che per carità deve giocare, deve giocare titolare però magari invece di elevarlo all'ottantesimo al novantesimo, al novantaduesimo, al novantaquattresimo toglielo al settantesimo e dagli 20 minuti a Castellanos anche per prendere confidenza col campo con i compagni per far dimostrare poi se ti dovesse dimostrare una capra proprio allora magari sforzi un po' più Immobile invece cerchiamo di salvaguardare Immobile anche perché visto i precedenti e cerchiamo di dare più spazio a Castellanos consiglio come il consiglio che ho dato anche su Instagram visto che Basics non credo che servirà a nulla con questo centrocampo che abbiamo e che occupa una casella e visto il Pedro che è sicuramente in ritardo di condizione ma visto anche l'età visto insomma come la Lazio è diventata una Lazio anche più veloce rispetto allo scorso anno proprio per i nuovi, grazie ai nuovi arrivati io ho consigliato uno svincolato che si è svincolato adesso il primo settembre che è Idrissi dal Siviglia per quelli che conoscono il canale questo canale che sono iscritti dall'inizio poi agli albori di questo canale si ricorderanno come Idrissi lo consigliai prima che lo prendesse il Siviglia appunto alla Lazio perché comunque giocava nella Z l'ho visto giocare in Olanda è un giocatore che secondo me sa fare l'ala sinistra e poi nel Siviglia non so che problemi ha avuto fino ad arrivare a rescindere il contratto il primo settembre comunque adesso è uno svincolato secondo me è svincolato che a noi sarebbe utilissimo ovviamente come seconda scelta anche terza scelta ma è meglio averlo piuttosto che avere un Basic ecco per capirsi preferisco avere un Idrissi come alternativa che un Basic al centrocampo comunque diciamo questo comunque al dire di tutto la Lazio ha fatto una grande prestazione Kamada Guendouzi ragazzi io ho detto io non lo conoscevo però è chiaro appunto parlando di Basic che l'impatto che ha avuto Guendouzi alla prima partita non l'ha mai avuto Basic in tre anni quindi ben contento di conoscerlo e conoscerlo in questo modo questo ragazzo che probabilmente ci farà divertire e spero non anche impazzire perché per il carattere che viene raccontato che ha insomma spero che rimanga diciamo con un focus con l'idea di far bene senza partire di capoccia però ripeto questo risultato ha portato un piccolo termoto anche al di fuori i primi a subire le onde di questo terremoto è stato proprio il Napoli amici napoletani ieri mi hanno scritto che con Garzia tutti hanno scritto messaggi molto semplici con Garzia quest'anno non si ripete lo scudetto non si ritorna a vincere lo scudetto Garzia non è l'uomo giusto per rivincere lo scudetto insomma tante cose su Garzia era chiaro che Garzia non è Spalletti ve l'ho detto probabilmente Garzia non portava le stesse soluzioni di Spalletti però ciò non toglie che il Napoli sicuramente può lottare per lo scudetto quindi bisogna per questo dico dopo tre partite solo per questo risultato di fronte magari a una stanchezza improvvisa che è venuta a Napoli non lo so quello che è successo a Napoli però effettivamente ho visto il Napoli che a un certo punto si è perso e con Spalletti difficilmente vedevi un Napoli che si perdeva nel campo tutti sapevano esattamente cosa fare e eventualmente anche come uscire da determinate situazioni Garzia secondo me non ha preparato il Napoli a uscire da delle situazioni che ieri sera si sono verificate e quindi non c'è stata più un'organizzazione per arrivare al gol c'è stato un po' tutti che provano a tirare tutti che provano a recuperare ma non c'è stata armonia non c'è stato quel gioco di squadra che invece Spalletti aveva creato da subito c'è un toglie che potrà arrivare però ho visto veramente uno scossone negli umori degli amici napoletani scossone che non mi aspettavo invece tra amici romanisti e juventini perché mi scrivono altro che Scudetto gli amici di Roma romanisti altro che Scudetto dice io dice noi siamo praticamente siamo rimasti gli ultimi in classifica gli ultimi no perché ci sarebbe ancora l'Empoli a zero vediamo cosa farà con la Juventus dice però praticamente mi hanno fatto capire che loro l'unico appiglio diciamo a cui si erano attaccati per non cadere poco in depressione visto l'unico punto in tre partite era il fatto che la Lazio fino a quel momento aveva fatto peggio ed erano sicuri che il Napoli avrebbe contribuito a colpire ulteriormente la Lazio e lasciarla a zero punti il fatto che la Lazio abbia fatto questi tre punti ha veramente scosso diversi amici romanisti che però c'è da dire perché loro hanno anche il dubbio di vedere poco Lukaku e Dybala insieme perché comunque la squadra ha tanti giocatori che fisicamente non stanno benissimo ma proprio ma non in questo momento in generale hanno tutti dei problemi fisici che ciclicamente ritornano però insomma tanta negatività ma io stiamo sempre alla terza partita adesso c'è la pausa insomma io penso che il campionato proprio ragazzi ve l'ho sempre detto andate a vedere anche gli altri video per me i campionati partono dopo 6-7 partite 6-7 partite servono perché tutti chi più chi meno ha problemi poi è normale ogni campionato ha la squadra che si presenta meglio delle altre infatti il Milan è partita subito in quarta probabilmente il Milan potrebbe fare quello che il Namburi ha fatto lo scorso anno ovvero macinare punti all'inizio per creare subito un distacco però è tutto da vedere ragazzi stiamo alla terza partita ma oltre i romanisti anche i juventini quelli mi hanno un po' sorpreso e mi hanno detto contenti che Napoli abbia perso ma molto preoccupati di questa Lazio che onestamente potrebbe creare problemi a noi nel senso non tanto riferito alla partita con la Juve in quanto nella corsa al quarto posto cioè loro sono consapevoli che senza coppe hanno un vantaggio ma sono anche consapevoli che con Allegri con un mercato dove non sono arrivati in realtà rinforzi importanti si potrebbe far fatica ad arrivare al quarto posto con questo Milan con questa Inter e soprattutto dopo aver visto non solo la Lazio ma anche l'Atalanta perché l'Atalanta pure pensavano che era una squadra che poteva stare fuori dai giochi invece Scamacca ha cominciato a prendere giri l'Atalanta si può avere qualche caduta ma è una squadra importante si sono cominciano a preoccuparsi forse solo la Fiorentina vedremo stasera con l'Inter come si comporterà forse la Fiorentina ancora non dà l'idea di una squadra che abbia trovato il giusto compromesso con i nuovi quindi il giusto equilibrio però è una squadra anche quella importante insomma c'è tanta preoccupazione perché pensavano che la Lazio potesse essere veramente una squadra da bannare e dire vabbè la Lazio è fuori dai giochi meno male invece con la prestazione ieri sera hanno dovuto rimettere la Lazio in corsa e quindi i gioventini hanno dimostrato questa loro preoccupazione ragazzi fatemi sapere voi soprattutto se siete di altre squadre come lo vedete questo inizio campionato insomma un po' spumeggiante capisco che la Roma è l'unica che un po' ha deluso più di tutte la Lazio ripeto ieri si ha fatto vedere ma non è che non ha deluso nelle prime giornate però tutte più o meno sono un po' cadute ripeto a parte il Milan e vedremo l'Inter oggi con la Fiorentina alla stessa Juventus vedremo cosa farà con l'Empoli insomma un avvio zoppicante un po' per tutti sicuramente dopo la sosta quando chi è un po' più dietro in forma riprenderà magari un po' i ritmi e chi oggi ha zoppicato magari dopo potrebbe iniziare invece come la Roma prendendo Di Bala e Lukaku che potranno iniziare a giocare insieme secondo me partirà un altro campionato ragazzi quindi secondo me oggi dopo tre giornate non si può né scartare nessuno e né dire quella è più forte degli altri perché stiamo alle prime giornate ripeto tanti fattori che influiscono sui risultati compreso la preparazione i nuovi arrivati il mercato tante cose quindi ci vogliono 5, 6, 7 giornate io ho sempre detto 7 barra 8 addirittura quindi più che la classifica guardiamo le prestazioni e mi aspetto appunto proprio da Lazio una prestazione a ritorno a inizio del campionato con la Juventus al pari di quella che ho visto con il Napoli incrociamo le dita o li vedo oggi musica musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.